la signorina della tecnica ci dava un aiuto prezioso la signorina della tecnica dici che questo non vi faccio? eh chissà perchè io non lo so ah non lo so oh beh questo non lo so guardate che questo non lo so beh beh perchè? perchè? per le blande che ne sono e ho finito ormai guardate che non lo so mi ri le direi ah ah non lo so e lì mi giocca è una gara dici che c'è la bianca che c'è la aostra sono i rispondati sono i rispondati che c'è la bianca Sì, è morto. Tu hai guaricione? Sì. E' un livello guaricione? Non c'è niente qua, non c'è niente. E' su? Ma è rotta, è quella qua, è rotta. No, vedo i calitanti in calo. Ah sì? Eh sì. Allora. Ma è manchi luoghi, come guarda. Allora... Allora, è fresco qua. Allora, ecco, va bene... Vediamo come fai. Allora, ho ragazzi, questa, non sei più chat, non sei! Allora, senti a casa? questo è forse più facile forse forse guarda che guarda che se lo sai che fatti ma ascoltami se non ci fosse questa signorina come si farebbe ci cambia la cassetta ci cambia la cassetta la cappella la barata la barata la barata la barata sono due le unено se la stessa giudice la barata si e non si può morire ma si fa sempre piacere si 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 no no aiuta aiuta e vabbè quando mette l'altra aiuta dai ma a allora ho ti no è Sì Eh? Eh, quel polpo. Chi chi è fatto pure di te? No, io ti do qui, mi permette di provare un'altra, però... Hai te la chiedi qui? Se si, per essere iniziati, è un po' comunque non ho meno senso. Non è ancora là? No, 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 no. Quello quando much? Per essere? Troppo l'obendo per favore. Ti la leggera nessun cibo. Al prezio tanti? Nu va a scampirare. Sen da dei,mensi. Non in 상atore... Rami tembolo, Fida e Mok Rami tembolo Rami tembolo Romina Romina Un nuovo programma La signorina Lumi, un nuovo programma orale La fissa delle condizioni Un nuovo programma orale Un nuovo programma orale Vabbè, stanno qui alto. Sì. E' vera. Ma adesso non le vanno più queste... Queste più si le vanno, ma sono più in base. E' molto il tempo che non le vanno a metterlo. Ma... Ma che ti senti che cambiano? La rendi bassa, la rendi bassa, e... ...e' la loro è mappa. E' vera, 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 vera. Sì, sì, è una cosa. Adesso passiamo a take, come... Abre. No, c'è sì, da un tiro fino a qui. Sì, sì. ...aprire. No, no. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.